E' il primo giorno dell'anno alla marchigieniosa scuola Fassbinder, ma il mistero è già calato sulle sue antiche mura. Un omicidio. Va fatta giustizia. E mentre le spiavi? Non li stavo spiando. Sono persino litigato per me, che sciocchi maschi siete. Mi spiace per Darren, so che eravate molto amici. Non riesco ancora a crederci. Ma state attenti. Vi ritroverete a dover fare delle scelte. Ma fatele con l'occulatezza. O rischierete di trovarvi il male di una nuvola di fumo. Ma rollatevi il male di un'occulatura. Grazie a tutti